Presentati nella piastra logistica di Contrada Saletti a Paglieta i due nuovi locomotori Sangritana che entreranno in servizio sulla direttrice Melfi Foggia destinati all'automotive. Si tratta di due locomotori a gasolio F-Shanter 1000 che lavoreranno sulle tratte non elettrificate che congiungono Basilicata e Puglia fino a portare i prodotti di Melfi sulla linea adriatica. Si conclude così la due giorni di workshop Sangritana Cargo Open Day organizzato a Fossa Cesia della Sangritana è servito per fare il punto di quanto si sta facendo per le ferrovie abruzzesi. 4 milioni e 4 di investimenti per due locomotori uno dei due alle mie spalle, investimenti in termini di infrastruttura, ieri ricordavamo nel focus, l'abbiamo ricordato anche oggi che Fossa Cesia è la stazione di Fossa Cesia di RFI dove noi operiamo come operatori anche di manovra oltre che di trazione è stata portata a 750 metri il modulo, quindi vuol dire insomma una delle poche stazioni in Italia che può ricevere nello standard europeo treni così lunghi e anche questo è un altro primato del nostro territorio. Segno evidente non solo della dinamicità dell'impresa ma segno evidente anche del senso di appartenenza dei lavoratori, delle maestranze, la nostra è un'azienda molto piccola, siamo in 100 scarsamente, le 44 assunzioni annunciate oggi con la disponibilità quindi del nostro azionista che è sempre comunque la regione Abruzzo insieme a tua ci danno ulteriore dimostrazione di quella che è la capacità di impresa di Sangritana e nello stesso tempo continueremo a lavorare come ho ricordato prima tutti i giorni con il sorriso. Arrivano i mezzi, arrivano soprattutto anche le piastre logistiche che consentono a quei mezzi di essere efficaci, di poter caricare un numero importante di vagoni e di mezzi a servizio di tutta l'area industriale, questa è la politica corretta, fare degli interventi coordinati, sarebbe inutile acquistare mezzi se non ci fossero le banchine lunghe 750 metri che possano accogliere vagoni merci che siano competitivi e concorrenziali rispetto ad altre modalità di trasporto. Oggi le merci che passano su ferrovie sono solo il 5%, questo è un dato su base nazionale ed è una cifra troppo bassa per un paese moderno, dobbiamo investire sulla ferrovia, dobbiamo investire sul cargo, dobbiamo investire su queste modalità di trasporto ed è quello che la regione sta facendo e continuerà a fare nei prossimi anni.